Lorenzo, continui a stupirci, ho un 50 stile bello, 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 veramente. Sì, dai, tutto sommato sono contento, salire su un podio così, comunque prestigioso, un avversario di grande valore. Speravo di scendere sotto 22 perché penso di avercelo già addosso, però comunque aver nuotato due volte 22 dopo una stagione difficile, insomma, mi fa ben sperare. In acqua come ti sei sentito? Non dimentichiamo che tu sei stato fermo per diverso tempo, 5 mesi sono un'infinità. Allora, in acqua oggi mi sentivo molto leggero sopra l'acqua, poi stasera forse ho strappato un pochino troppo gli ultimi 15 metri. Però sì, tutto sommato, se io riguardo a fine gennaio quando ho ripreso, ho affrontato il primo mese e mezzo praticamente di bagno senza allenarmi granché. Poi ora invece più o meno 3 mesi, 3 mesi e mezzo che dagli assoluti in poi sto ritrovando la continuità giusta. In allenamento ancora non ho fatto vedere grandissime cose, però poi io in gara di solito mi esalto. Quindi sono contento tutto sommato della prova di oggi, cerco di guardare il bicchiere mezzo pieno e andiamo avanti. Domani ci sarà il 100. Bene, allora in bocca al lupo per domani. Crepi, grazie, ciao.